Al fine della tutela della pubblica igiene e salute si ritiene opportuno provvedere alla realizzazione di interventi che prevedano la rimozione e la pulizia dell'erbaccia nel vicolo, la chiusura di qualsiasi pertuggio e apertura su pareti e infissi, i vi presenti allo scopo di evitare la presumibile fuoriuscita di topi e la frequentazione e stanzionamento di volatili, infine una disinfestazione del piano stradale e delle pareti che versano allo stato grezzo. L'ho messo a nero su bianco l'asla Vezzano su Mona L'Aquila nella relazione consegnata a sindaco della città di Sulmona, Anna Maria Casini, sullo stato ridegrado di Via Morrone, una serie di criticità che vanno avanti da tempo fra alta e incolta vegetazione, edifici abbandonati e topi libera uscita. Tutto è partito da un esposto presentato da Maria Dedeo, residente della zona che aveva segnalato anche il caso della carcassa di un gatto. L'asla, dopo un'accurata ispezione, ha verificato lo stato di abbandono di un immobile al civico 59 e di proprietà di privati, a cui è possibile accedere, infatti all'interno si trova materiale di ogni genere. All'interno dell'immobile l'asla ha ritrovato la carcassa di un gatto in un sacco nero lasciata lì da servizio veterinario. Di fatto l'azienda sanitaria ha confermato quindi lo stato di disagio e le carenze igienico-sanitarie, da cui l'invito al sindaco Anna Maria Casini, responsabile del quarto settore del comune che si occupa di ambiente e infrastrutture, a intervenire.